Yu-Gi e tutti duellanti ben ritrovati sul canale. Oggi siamo qui nuovamente per la prima volta insieme a Riccardo che ci porta la sua deck profile di Dino con i nuovi supporti usciti in Wisu. Ovviamente ragazzi però prima di iniziare vi ricordo che questo video come tutti gli altri sono sponsorizzati da Jaxxor, il mio sponsor per l'acquisto di prodotti coreani. Trovate il mio referral link e il codice sconto qua sotto in descrizione. Inoltre se volete liberarvi di carte di Yu-Gi, Magic, Pokémon e One Piece trovate il link del mio Instagram sempre qua sotto. Contattatevi, mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante se ne può parlare. Detto questo se dopo la deck di suoi darvi a Dino io l'offerta su voi della faccia. Guarda in realtà no perché è un mazzo veramente bello, me lo vorrei tenere se permetti. Vabbè vi lascio a lui e vediamo se è capace di spiegarvi Dino e farvelo amare. Partiamo con un presupposto ovvero Dino adesso come mazzo a differenza di molti che vedevo che dicevano è tornato Dino e qua e delà è un mazzo rogue. Nonostante i supporti siano molto grossi e aiutino molto il mazzo però rimane comunque un mazzo che perde da droll e c'è poco da fare quindi rimane un mazzo rogue però comunque sia molto divertente che secondo me ne vale la pena giocarlo ma bisogna essere convinti, bisogna sapere che comunque sia non è un mazzo con il quale potete andare a vincere chissà cosa. Però è un mazzo molto divertente. Detto questo partiamo con la profile, gioco il trepper di Omiraptor che è lo starter del mazzo, molto forte, lui aggiunge carta Nino o Manda al cimitero quindi in caso risolve anche sotto droll. Poi un altro trepper di Baby Serasaurus, probabilmente la carta più forte del mazzo, quando viene distrutto c'è da mazzo un livello 4 o inferiore Dinosauro quindi veramente forte. Poi abbiamo altri due baby, due piccoli pteranodonti, questi fanno la stessa cosa di Baby Serasaurus, che ci hanno sempre dato anche un mostro di livello 4 superiore di noi. Poi abbiamo due Xenometerosauro, questa è una nuova carta uscita di Weezo, veramente forte perché quando viene spaccata una carta, indipendentemente che la carta sia tua o dell'avversario, spaccata in battaglia e in effetto di carta, questa carta entra. Quindi molti ho visto che lo giocano a 1, secondo me non c'è senso, anche vederlo in mano può servire per chainlockare l'effetto di Baby Serasaurus perché appunto quando viene spaccato si triggera lui come catena 1 perché è mandatorio e lui lo triggerate come catena 2 così che non può essere fatta ascia su Baby Serasaurus. Poi abbiamo due Arcosauro, questi qua servono più che altro per aggiungere pillole e continuare con la combo e portare il tirannosauro finale conduttore. Ne gioco due perché se lo vedete in mano lo volete comunque provare a specialare con il mistosauro. Abbiamo due Finale Conduttore, carta troppo forte, è una carta letteralmente per il quale gioco il mazzo, lui è un 3005, può attaccare tutti i mostri dell'avversario e durante la main phase effetto rapido, gli può mettere tutti i coperti. Inoltre quando attacca un mostro in posizione di difesa, il suo effetto manda al cimitero e l'avversario perde 1000 life points, quindi forte anche in caso per vincere al tempo. Poi abbiamo un Rex Gigante, un Extender, quando viene bannato ritorna, si è in speciala. Poi abbiamo una delle carte più forti di tutto il gioco di Yu-Gi-Oh, che è Dino Wrestler, Bancratopo, lui come tutti cosa fa, si speciala, spacca, tributandosi di costo. Inoltre essendo un Dino è andabile, quindi troppo forte. Poi probabilmente la carta più forte è il mazzo, Mistosauro, questo ti rende immuni i mostri di dinosauro durante la main phase e ti fa scombare perché dopo dal cimitero lo puoi bannare e insieme ad altri mostri di dinosauro per specialare un dinosauro con lo stesso livello di mostri bannati. Poi la carta più forte del mazzo, che è Frostosaurus Ultimate, gentilmente offerto da cappello. Questa carta serve principalmente per una combo, che vedremo dopo. E inoltre adesso che è uscito il nuovo Evolzar di rank 6, si potrebbe pure pensare di giocarlo essendo un Omnigate a target. Essendo di appunto rank 6, lui livello 6, lo potete fare tranquillamente. Poi il pacchetto frammento, formato da due raptor e una chimera. Poi abbiamo le magie, tre scavi fossili, carta straforte per il mazzo perché aggiunge un dinno di livello 6 inferiore da mazzo e non è once, quindi potete attivarla più volte. Poi abbiamo la nuova magia Ground Axeno. Questa prima aggiunge un mostro tuner dinosauro da mazzo e poi spacca una carta dalla tua mano o terreno e questa carta può essere utilizzata anche dal cimitero per fare fusione. Infatti dice che quando puoi bandire questa carta è dal tuo cimitero e fai fusione utilizzando i mostri che hai in mano o sul tuo terreno e torna molto utile per una combo che vedremo dopo. Poi abbiamo due pillole dell'evoluzione doppia, regolosamente Secret, che servono per appunto portare il tirannosauro finale conduttore o in determinati casi anche pancratopo, visto che è speciale a un livello 7 o superiore da mazzo. Poi abbiamo due mondo perduto, è una carta che è forte però è una di quelle carte che di solito vado a cattare quando vado a cambiare con la side e pescata di suo non è proprio il massimo, potrebbe anche essere un brick. Allo stesso tempo però è una carta che mette un token sul campo dell'avversario con il quale ci puoi interagire visto che se sta per essere spaccato quel token puoi invece spaccare un mostro da mazzo e quindi triggerare gli effetti di baby. Inoltre finché il tuo avversario controlla un token sul terreno non può targettare con gli effetti delle carte i tuoi mostri se non token, quindi praticamente spara da impermanence, veiner o carte che targettano. Poi per la consistenza 3 prosperity, carta troppo forte e serve assolutamente per il mazzo. Poi monocalled perché droll è una brutta carta e questo mazzo perde principalmente da droll anche da shifter. Poi abbiamo 6 ht che gioco che sono 3 hash e 3 impermanence. Volendo si potrebbe giocare al posto delle 3 impermanence un pacchetto formato dal terreno dei true draco e i due litro sashim per appunto andare a extendere le vostre combo ma io vi consiglio di più di giocare delle impermanence in modo da avere comunque sia delle carte vive da poter utilizzare nel turno dell'avversario se magari vi fanno andare secondi perché altrimenti giocare con solamente hash è un po' rischioso magari non vedete neanche una di queste hash non vedete neanche una delle entrap e non avete modo per giocare nel turno dell'avversario. Poi facciamo l'extra deck, nell'extra deck abbiamo l'incuribo che serve principalmente per mandare al cimitero l'arcosauro e poi continuare con le vostre combo. Poi abbiamo la viverna, questa serve appunto per la solita combo di Dino con la quale fai la viverna, speciali da mazzo, quindi molto standard, tutte cose che si sanno già. Poi abbiamo punto pecora, questa serve per la nuova combo con la fusione che vedremo dopo. Poi gioco Reproducus, Reproducus serve per evocare l'extra deck una carta molto forte se non anche sbagliata che vedremo tra poco. Poi abbiamo Apollosa che questa va sempre calata di combo. Poi abbiamo Mascherena con i suoi due target che sono Unicorno e Fenice. Al posto di Fenice prima giocavo Pentestag ma ho visto che molti mazzi giocano Floodgate e visto che ci possono far male preferisco avere un qualcosa che possa autare questi Floodgate e Fenice è la carta giusta. Poi abbiamo numero 60, Dugares. Questo serve principalmente per fare il tiranusauro conduttore da 7000 di attacco che può attaccare tutti i vostri all'avversario, quindi molto simpatico per distruggere delle board. O volendo può farvi pescare due carte, quindi in caso siete messi male può fare anche quello. Poi abbiamo gli Evolzer, Laggia e Dolka. Questi due sono fortissimi. Laggia nega magia o trappola o Sammon in caso, quindi veramente fortissimo. Dolka invece nega effetto di mostro e non è Once, quindi può negare più di una volta e è veramente forte questo effetto, nessuno se lo ricorda. Poi abbiamo il Savage che serve appunto per la combo. È l'Omini Negate che calerete più spesso. Se non calate Savage probabilmente avete già calato Barone. Anche Barone è calabile visto che il supporto nuovo Dino, il Meteosauro, questo è Tuner. Quindi potete fare con lui un livello 4 Barone. Inoltre una cosa che non ho detto prima del Meteosauro. Lui può spaccare un mostro, capite? In mano o sul terreno e specialare da mazzo un mostro normale dinosauro. Ed è così che si può fare l'Arts. Però se attivate questo effetto siete locati in Wyrm, Serpente Marino, Drago e Dinosauro. Ma vi importa poco, tanto alla fine il secondo effetto non lo utilizzerete quasi mai. E soprattutto comunque se giocate di extra già di draghi, dinosauri, ce li avete. Poi come ultime due carte di extra abbiamo Natura Bestia, che è quello che cali con Reproducus. E infatti Reproducus serve per trasformare il livello 1 che hai di attributo luce in attributo terra. E fare insieme a il raptor frammento Natura Bestia. Una carta che è letteralmente auto-win contro determinati mazzi. E all'UTS dove ho portato Dino ho incontrato un Purely. Fatto Natura Bestia di turno 1 non ha giocato. Perché nega tutte le magie e questa cosa è veramente sbagliata. Poi come ultimo mostro di extra abbiamo la fusione nuova che praticamente quando entra può recuperare un dinosauro da cimitero. Inoltre se entra da cimitero puoi anche spaccare una carta che controlli qua in mano e una carta all'avversario. Allora adesso vi illustrerò la combo che è una 2 card combo con Xeno e Baby Serasaurus. Attiviamo Xeno, ci aggiungiamo alla mano Frostasaurus e spacchiamo il nostro Baby Serasaurus. Poi si triggererà l'effetto di Baby Serasaurus che ci porterà da mazzo in Novi Raptor. Mangiantanima, effetto di Ovi Raptor. Con lui ci aggiungiamo il piccolo Teranodonte. Facciamo Normal di Teranodonte. E poi facciamo effetto Ovi Raptor, target Teranodonte. Lo spacchiamo e facciamo rientrare Baby Serasaurus. Effetto del piccolo Teranodonte. Ci portiamo il Raptor Frammentum. Effetto suo, spacchiamo Baby Serasaurus. E abbiamo anche per il suo effetto la Normal aggiuntiva di un Mostra Scrap. Effetto Baby, ci portiamo un altro Baby. Poi qua si passa per la Combo Scrap. Quindi facciamo la Viverna. Effetto della Viverna. Pressiamo il Raptor Frammento e lo spacchiamo. Effetto uno della Viverna, due del Raptor. Il Raptor quando viene spaccato ci fa aggiungere un Mostra Raptor dal deck alla mano e aggiungeremo la Chimera. Mentre della Viverna specialeremo il Raptor Frammento. E spaccheremo Baby Serasaurus. Effetto uno di Baby, ci portiamo il Mistosauro. E adesso qua facciamo con la Viverna il Mistosauro. Ci facciamo il Punto Pecora. Poi fatto questo possiamo attivare l'effetto di Ground Xeno da Cimitero. La bagniamo e ci fa fusionare utilizzando l'altro Raptor Frammento e Frastosaurus. Per portare la fusione sotto Punto Pecora. In questo caso facciamo uno Punto Pecora, due la fusione. Quindi con la fusione ci riaggiungiamo in mano un Baby e con Punto Pecora restiamo un Raptor Frammento. Poi da qui facciamo l'effetto Mistosauro che lo bagniamo per portare da mazzo Arcosauro. Effetto di Arcosauro spacchiamo il Baby e ci portiamo la pillola in evoluzione doppia. Effetto di Baby. Con lui adesso ci andiamo a prendere l'altro pezzo di combo che è Rex. Adesso possiamo già fare con il Raptor, ci facciamo il Calibro Carica, facciamo effetto il Calibro Carica, ci mettiamo Viverna e abbiamo già una negazione Omni Negate. Poi adesso qua facciamo Normal della Chimera e Effetto e ci riportiamo il Raptor Frammento. Poi con la Chimera e l'Arcosauro e il Punto Pecora ci facciamo Apollosa. Se la trovo qua. Ci facciamo Apollosa, lei da 3. Attiviamo infine la doppia evoluzione, bagniamo il Rex e il Punto Pecora e portiamo da deck il nostro Tirannosauro finale Conduttore. Per effetto di Rex stato bandito lo rispecialiamo. Adesso con Rex e il Raptor Frammento che avevamo sul terreno ci facciamo uno di questi due, o Evolzar o Laggia. Dipende dopo ovviamente se sapete già contro che mazzo mi trovate. Io solitamente se non so contro chi sono farei un Laggia che non guasta mai. Essendo un Negate di Salmon e Spellentrap quindi è un po' più forte nel caso non si conosca il Maggia. E quindi questa è la bordo finale dove abbiamo tre interruzioni di Apollosa, due del Savage, abbiamo il Tirannosauro finale Conduttore che può mettere coperti i mostri in posizione dell'avversario. Abbiamo Laggia e inoltre abbiamo la Fusione che servirà come spacchino per il Tirannosauro finale Conduttore. Infatti si può fare una cosa molto simpatica che è nel turno dell'avversario, effetto di finale Conduttore, spacchiamo il Fusione, mettiamo i mostri di coperti. Per effetto suo quando viene spaccato rimischiamo nel deck un mostro normale, Dinosauro, e lui rientra Special. Effetto, quando rientra Special da Cimitero, in questo modo, oltre ad aggiungerci appunto un mostro Dinosauro da Cimitero e ci andremo a prendere in questo caso il Piccolo Pteranodonte, possiamo anche spaccare una carta che controlliamo o che abbiamo in mano. In questo caso noi spacchiamo il Piccolo Pteranodonte e una carta dell'avversario, quindi hai anche uno spacchino per appunto l'avversario e una volta spiegato l'effetto di Piccolo Pteranodonte possiamo anche evocare Damazzo, come altra interruzione, Fancratopo. Quindi in questo caso abbiamo, ok, utilizzato l'interruzione di Tirannosauro finale Conduttore, ma abbiamo guadagnato un mostro in più che è un altro spacchino, abbiamo già spaccato la carta dell'avversario e abbiamo comunque sia gli altri negati, quindi una board veramente tanto grossa e è veramente difficile adottare. Purtroppo esiste Dark Ruler e quella carta fa molto male Dino, ma nonostante questo, se l'avversario non dovesse averla è comunque sia molto difficile a passarci sopra. E va bene ragazzi, il video finisce qua. Spero come sempre vi sia piaciuto e fatemi sapere qua sotto con un commento se monterete mai Dino in un futuro ipotetico quando la Konami deciderà di ristampare la magia. Quello è vero, io provo comunque se intanto vi consiglio di prendere le carte che sono state ristampate in viso visto che sono tutte rare, quindi vale una pena. O se siete veramente ricchi potete anche prendere tutte con l'entro. Consiglio, non provate a mangiare né mistosauro né il tiranno perché dopo viene il mal di stomaco. Io ci sono già passato qui. Sono difficile da ingestire. Quindi non fatelo, c'è che ci sono cose chimiche all'interno, quindi meglio di no. Detto questo ragazzi, state mesi e noi ci rivediamo domani, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti!